Anche dalle immagini che vediamo, io credo che occorre distinguere tra la riappertura delle attività economiche e la movida, per capirci. Perché le immagini che colpiscono di più non sono quelle dei luoghi di lavoro, che tra l'altro stentano a riaprire, perché molti negozi non riaprono, ma delle persone che, come dicevamo all'inizio, come vediamo, si riuniscono per fare vita sociale e riempiono le piazze e fanno la fila alle gelaterie. E lì non c'è nessun controllo, perché noi siamo stati giustamente controllati a ogni passo che facevamo nel momento del lockdown. Addirittura se uno stava 100 metri lontano da casa veniva multato. Quello che io chiedo, perché in questa fase 2 questi comportamenti, non dico che debbano essere sanzionati, ma qualcuno dovrà intervenire per dire, signori, voi non potete fare questo. Ma io parlo proprio di quelli che devono... Cioè come se si fosse mollato improvvisamente il controllo del territorio in queste episodi. Ma non riguarda le attività economiche, riguarda di meno le attività economiche.